In questo foglio, vogliamo calcolare il totale dei valori presenti nelle scelte da C3 a C10. In base a quello che già sappiamo fare in ecco 6, forniremo il problema, scrivendo la seconda formula, uguale a C3 più C4 più C5 più C6 più C7 più C8 e così via. Troveremo la soluzione al nostro problema. Già vediamo da questo semplice esempio come una cosa possa diventare abbastanza tediosa o addirittura impossibile se ci troviamo di fronte a quantità di gradi molto più grandi. E infatti, oltre alla scrittura di funzione, di formule che utilizzano soltanto operatori algebrici come più per diviso, esiste una possibilità alternativa che è quella di utilizzare le cosiddette funzioni di Excel. Ad esempio, se dal menu Home clicchiamo sul pulsante Somma Automatica, vediamo che il programma scrive la cosa seguente, uguale a Somma, fra parentesi C3 e C10. Abbiamo incontrato la prima funzione di Excel, una funzione che, come si può capire dal nome, effettua una somma. Fra parentesi va messo l'intervallo di celle che sono oggetto della somma. Quindi uguale, nome della funzione, fra parentesi, argomenti della funzione, cioè le celle coinvolte. Notate per inciso come qua adesso scopriamo perché i due punti non siano utilizzabili in Excel per rappresentare l'operazione di divisione. In Excel, infatti, i due punti servono a indicare un intervallo di celle. Per esperimento, sostituiamo al due punti il punto in virgola. Notate che cambia radicalmente di significato. Il punto in virgola significa, come vediamo dall'iniziatura, soltanto, stavolta significa sommare soltanto le celle C3 e C10 e non anche le celle intermedie. Ma si può fare ancora di più. Supponiamo, ad esempio, che vogliamo sommare le prime tre celle e le celle intermedie. Grazie. Grazie. Grazie a tutti